Quali sono le aule libere per gli alunni? Noi ieri sera abbiamo finalmente concordato con l'assemblea dei genitori e con il dirigente scolastico la soluzione provvisoria ma definitiva nello stesso tempo che riguarda la scuola Mediamentola prevedendo che gli alunni potranno frequentare nei prossimi giorni dopo che diamo una sistemata alle aule di poter frequentare i tre plessi complessivamente. Uno è il seminario Vescovile, altre sei classi saranno ospitate nel plesso di via Sant'Angelo dove attualmente ci sono alunni delle scuole elementari che comunque non saranno toccati e infine riapriremo per quest'anno scolastico il plesso di via Capitano Callea che proprio alcuni anni fa ospitava classi dalla scuola media Capitano Vaccaro che ora è stata unificata con la scuola media Mendola. Si chiude quindi così in maniera positiva, di questo io sono felice, una avvertenza che sembrava difficile nella risoluzione soprattutto perché dovevamo ricercare delle aule che fossero libere sin dalla mattina per evitare che i ragazzi della Mendola frequentassero la scuola nel pomeriggio. Adesso saranno tutte e 18 le classi di mattina e sicuramente questo è un fatto positivo che va ascritto all'impegno dell'amministrazione comunale che è stata solette e incisiva e devo dire anche al senso di responsabilità dei genitori, del corpo docente, del dirigente scolastico della Mendola che assieme hanno concordato con noi la soluzione che abbiamo proposto.